Via libera del governo Schifani al piano della rete territoriale di assistenza della regione siciliana in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Più di 300 milioni di euro di risorse del PNRR sono stati destinati alla costruzione in tutta la Sicilia di 43 ospedali di comunità, 156 case di comunità e 50 centrali operative territoriali. Riformare il sistema sanitario regionale, sfruttando le risorse nazionali ed europee a nostra disposizione per migliorare concretamente il livello qualitativo dei servizi offerti ai cittadini. È una delle priorità del mio governo e non stiamo perdendo tempo, afferma il presidente della regione sicilia Renato Schifani. Gli ospedali di comunità rappresentano strutture socioassistenziali tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale e hanno l'obiettivo di evitare ricoveri inappropriati. Ne saranno costruiti 10 a Palermo e Catania, 6 a Messina, 3 a Grigento, Raguse e Trapani, 2 a Caltanissetta ed Enna. Il costo complessivo ammonda 96 milioni e 444 mila euro. Le case di comunità rappresentano l'assistenza per eccellenza e in queste strutture si erogano interventi sanitari ed integrazione sociale. Il piano ne prevede 39 a Palermo, 29 a Catania, 21 a Messina, 19 a Grigento, 13 a Trapani, 12 a Siracusa, 9 a Raguse e Caltanissetta, 5 a Enna, per un totale di 216 milioni e 998 mila euro. Infine sono previste 50 centrali operative per un totale di 8 milioni e 480 mila euro, divise 12 a Palermo, 10 a Catania, 7 a Messina, 4 a Grigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani, 3 a Ragusa e 2 a Enna. L'obiettivo che ci siamo posti, dice l'assessore regionale alla sanità Giovanna Volo, è quello di portare la sanità ad un livello sempre più prossimo al cittadino. Grazie. Grazie.